Rave party. Da giorni non sentiamo parlare che è The Rave Party. I fatti. Nell'ultimo weekend di ottobre in un capannone fuori Modena si tiene un Rave Party. La polizia interviene. Dopo una breve trattativa il rave viene fatto finire. Il 31 ottobre il governo Meloni emana il suo primo decreto legge. Tra le misure a pagina 4 c'è questo articolo ribattezzato Norma Anti-Rave. Chiunque organizza o promuove l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica può essere punito con la reclusione fino a 6 anni. Per molti costituzionalisti è scritto male. Non specifica per esempio cosa sia l'invasione, cosa intenda per pericoloso e chi decide cosa sia pericoloso. Altri vanno a notare come visto che la pena può essere fino a 6 anni. Chi li organizza potrebbe essere intercettato. Un trattamento che pare sproporzionato. Altri ancora come la legge si è scritta in maniera talmente vaga che potrebbe applicarsi anche a raduni di altro tipo. E quindi non solo il rave. Infatti se ci fate caso qui non è mai nominata la parola rave. Ma lasciando stare per un attimo le critiche giuridiche e politiche ci sono due particolari da notare. Primo questa frase del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Davanti alle polemiche lui dice In ogni caso la conversione dei decreti si fa in Parlamento, non sui social. Cosa significa? Quello di cui stiamo parlando è un decreto legge. Ricordate i decreti legge di Conte durante il lockdown? Ovvero un decreto scritto al volo dal governo per motivi di necessità e urgenza, in questo caso il rave party di Modena, che entra in vigore subito. Ma il decreto non resta lì così com'è per sempre. Entro 60 giorni infatti questo testo deve andare in Parlamento e da lì deve essere discusso e convertito in legge dal Parlamento con un dibattito democratico. E lì in quei 60 giorni, quando il dibattito e i titoli iniziano a scemare, il decreto può essere anacquato, sminuito, diluito, modificato, smussato. Infatti, secondo particolare, già 48 ore dopo la stessa maggioranza sta discutendo di come cambiare la legge in Parlamento. Gli stessi ministri stanno ragionando già di come abbassare le pene e di come riscrivere il decreto perché adesso è troppo generico. Questo genere di provvedimenti potremmo ribattezzargli leggi pop-up. Sono leggi o proposte fatte da politici di sinistra o di destra che esattamente come i pop-up spuntano sul nostro browser mentre stiamo navigando, spuntano appena c'è una polemica. E servono spesso i politici anche per posizionarsi sul tema del momento. Cosa succede? La curva dell'attenzione sale, si dibatte per 48 ore, si detta l'agenda su un proprio tema identitario e si comunica o si danno conferme al proprio corpo elettorale. E magari si glissa invece su temi più spinosi, come il decreto aiuti, l'inflazione al 10%, una manovra di bilancio per cui il governo ha veramente margini ristretti. Poi, quando la curva dell'attenzione scende, in Parlamento la norma viene ridimensionata e diventa anche mediaticamente meno attraente. Ecco, a volte gli annunci di queste leggi vi hanno considerate anche come i pop-up, ovvero anche un elemento che spunta per mettersi in mostra. Noi però non dimentichiamoci mai di guardare la pagina intera.